sei lì al cento per cento sempre stato anche la cosa magari che mi ha affascinato come entri in questo stato di flow senza neanche renderti conto e sei lì e basta sei in autostrada non vedi niente macchine pianura ci sono presentate queste montagne davanti ai miei occhi però è stata una sensazione bellissima vedere beh ovviamente tutta la zona del monte bianco è impressionante e penso che questa sarà una sensazione che mi accompagnerà tutta la vita c'è ogni volta che vedo le montagne so che è il posto dove voglio essere la vita è movimento se stiamo fermi si ferma tutto quando ero ragazzina io o facevi cialpino oppure eri uno che va a perdere il tempo in giro con gli sci con anche dietro su dicevano questi sci strani però io sentivo che era la cosa da giusta da fare ho sempre un po seguito questo movimento che ho sentito dentro che mi portava a fare queste cose e sono contenta di di ascoltare l'istinto sciare è una forma d'arte poter disegnare la mia linea su una montagna con un artista disegna con un pennello la sua linea su un foglio io scelgo dove scendere io disegno la mia linea quindi sicuramente è arte forse arte un po astratta linee molto morbide che non finiscono mai che Ed Movement that inspires.